E' Celentano. Come attore è Celentano. E' come uomo è Adriano. C'è di più? Celentano. Nel 58 con Il tuo bacio è come un rock raggiunse la popolarità nazionale. L'apoteosi venne nel 60 con 24.000 baci. Suo malgrado Adriano, il molleggiato come fu definito, divenne attore. In una serie di film canori con venature di commedia. Poi nel 68 fu Serafino grazie a Germi. E così via. Fino al 75, quando come regista seppe mostrare una grande capacità creativa e una grande vena sfornando il suo memorabile Yuppidù. Oggi regala al suo pubblico un uovo di Pasqua che si chiama Asso. Ed un asso è veramente il nostro alieno, se è vero come è vero, che dalle soglie degli anni 80 fino ad oggi diventa, sotto la direzione di abili registi, campione di incasso. Il blef, 4 miliardi e mezzo. Mani di velluto, 7 miliardi. Qua la mano, 9 miliardi. Fino al bisbetico tomato con il quale i produttori hanno incassato l'altro anno l'incredibile cifra di 14 miliardi. Si direbbe che gli italiani vanno al cinema solo per vedere lui. A questo punto mi sembra di capire che tu faccia il divo qualche volta. Sempre. E lui, sempre disincantato, facendo finta di niente, ci spiega che cos'è il box office. Il box office è un indice di maggior incasso, mi sembra o no? Si, è proprio quello, lo sai benissimo.